Benvenuti a questo incontro con il Vice Ministro Edoardo Rixi. Buongiorno. Dovevamo fare un terrazza incontro in effetti con il Vice Ministro, ma per impegni importanti e istituzionali oggi non poteva essere presente tutto il giorno. Quindi abbiamo fatto questo incontro comunque per fare un punto all'inizio delle vacanze per almeno la maggior parte dei Liguri, non ancora per il Vice Ministro direi, no? No, diciamo che sicuramente noi rimaniamo in attività fino a ferragosto, quindi poi speriamo di avere qualche giorno di vacanza. Mi sembra più che giusto, noi siamo tutti molto contenti, abbiamo fatto il tifo per il ruolo che il Vice Ministro, speravamo che Edoardo Rixi prendesse, lo ha preso e adesso chiaramente questo diventa un impegno per lui molto importante, sicuramente innanzitutto verso il Paese, ma anche molto verso l'Italia, verso la Liguria, perché è uno dei pochi rappresentanti, se non sicuramente il più importante rappresentante che la nostra regione ha a Roma. E allora ci sono moltissimi temi di cui si deve parlare che approfondiremo, ce lo siamo già promesso, poi a settembre, però facciamo un attimo il punto partendo subito e immediatamente dal primo tema, la Gronda. Allora il problema della Gronda, problema direi decennale, ci si crede ormai molto poco. Abbiamo anche un sondaggio sulla Gronda che potremo mandare immediatamente volendo per vedere che cos'è che, fatto da Tecne, che cosa pensano i Liguri della realizzazione. Ecco, leggiamo i dato, ci credono che venga realizzato entro i prossimi 15 anni il 29%, in più di 15 anni il 7%, il 38% no e il 26% non lo sa. Diciamo che di base non si crede che la Gronda verrà mai realizzata, o comunque con enormi problemi. Credo che tutte le cose che si rinviano sempre non partano, non è che i geni erano fiducia tra la popolazione, quindi credo che come sondaggio sia un sondaggio, come posso dire, abbastanza scontato, nel senso che è chiaro che della Gronda si parla da moltissimo tempo, vorrei dire che la prima ipotesi di Gronda, o meglio di Bretella, Voltri-Rivarolo, è degli anni Ottanta, è un po' un altro tema che potrebbe assimilarsi al ponte sullo stretto, cioè i temi in cui l'Italia a un certo punto, invece di schiacciare sull'acceleratore, è schiacciato sul freno, quindi sono questo, basti ricordare che gli ultimi progetti depositati sulla Gronda risalgono al 2018, 2017-2018. 2017 lo ricordo perché era in commissione proprio trasporti in quel momento. Ed è lì praticamente, poi l'iter si è fermato, poi c'è stata la tragedia del Ponte Morandi che sicuramente ha creato moltissima tensione e ha anche orientato tutta la macchina pubblica a lavorare da un'altra parte, il problema oggi è che noi abbiamo il sistema autostradale più vecchio d'Europa, il 55% delle arterie autostradali sono state costruite prima degli anni 70, quindi vuol dire che nei prossimi 20 anni raggiungeranno una fase critica e quindi dovranno in parte essere demolite e ricostruite e questo presuppone il fatto di avere dei bypass alternativi perché altrimenti, vediamo già adesso, quando si cantierizza in autostrada le cose che ci sono, il rischio vero è che se il Paese non procederà speditamente a fare una serie di bypass, tra 20 anni lasceremo una situazione infrastrutturale in completa decadenza, anche perché i lavori di manutenzione anche straordinari a vorrei ricordare non rimettono i viadotti, le gallerie in condizione, come posso dire, originaria, ossia i materiali hanno una decadenza, soprattutto i materiali usati negli anni 60-70 e i primi anni 80, che fanno sì, che hanno una vita utile, oltre la quale continuare a mantenerli, c'è un rischio che poi viene calcolato non solo in aumenti dei costi esponenziali della manutenzione, ma proprio anche poi un rischio statico e dinamico importante. È assolutamente chiaro, il sistema autostradale è stato, come sappiamo, dato in concessione ai privati, ai Benetton, ci hanno lucrato sopra, dopodiché gliel'abbiamo ricomprato Marcio e adesso loro... Comunque non voglio entrare in una polemica, perché non vorrei che adesso lo Stato rifacesse poi le autostrade e poi le ridiamo ai privati di nuovo. Il tema della Gronda però, restiamo sul tema della Gronda, io sinceramente non credo che la Gronda si riuscirà a fare con questo progetto, perché è un progetto molto complicato, vediamo che non riusciamo neanche a finire il terzo valico, adesso c'è il problema dell'amianto, c'è una talpa bloccata, tutte cose che non è grande... No, la talpa è stata sbloccata, stiamo aspettando i conci che vengono consegnati, perché l'abbiamo dovuti rifar fabbricare, perché la pressione che c'è in quel tratto di galleria è tale che i conci tradizionali non la reggerebbero, quindi abbiamo dovuto aumentare i... per cui diciamo che il tema della talpa in questo momento è stato risolto, il problema è che è evidente che aver bloccato lo scavo per alcuni mesi fa sì che noi dovremmo aumentare le prestazioni del cantiere per mantenere la stessa scavozza in maniera molto importante. Però, ecco, restando sul terzo valico poi ci arriviamo, ma il problema della Gronda, io credo che sia un'opera veramente di una complessità, anche un progetto secondo me assurdo, salite, discese, cioè ci sono... è veramente fatto male questo progetto, è nato da una debat pubblica che ricordiamo, però ormai è vecchio, quindi la... e se anche si riuscirà a fare ci vorranno veramente un tempo lunghissimo, 15 anni. Noi abbiamo sempre sostenuto una cosa, il problema della Liguria è che cosa facciamo fino a quando la Gronda non sarà aperta o verrà sostituita da un'altra opera, ad esempio l'idea della carca repredosa non è secondo me assolutamente... Che però è complicato come la Gronda. Potrebbe esserlo di meno, a quanto pare, specialmente in questo tracciato, ma comunque che cosa facciamo oggi, oggi da qua a quando non ci sarà un'alternativa? Da quando non c'è un'alternativa noi abbiamo iniziato a chiedere alla Commissione europea e quest'anno siamo riusciti sull'autostrada dei Fiori a fare in modo di riuscire a non cantierizzare durante i periodi di maggior flusso, perché vorrei ricordare che fino a due mesi fa il rischio era di avere completamente bloccate le nostre autostrade anche durante i mesi estivi, soprattutto sul tratto di Ponente, che è quello che in questo momento è più indietro, perché in realtà chi oggi è più indietro sulla messa a norma delle gallerie è l'autostrada dei Fiori e la concessione Gavio, che ha grossi problemi anche sulla Torina Savona nel tratto tra Altare e Savona. Il problema che noi abbiamo oggi, giustamente lo dicevi prima, è che quando abbiamo concesso, ha fatto le concessioni ai privati, abbiamo concesso delle opere che per la maggior parte già esistevano, le aveva costruite ANAS e non abbiamo creato delle concessioni che faccia venire conveniente non solo di fare nuove autostrade, ma che si possa reggere questo con un non aumento del pedaggio, o meglio, che il pedaggio aumenti nel momento in cui c'è la nuova viabilità e non prima della nuova viabilità, perché se no il rischio vero è che noi aumentiamo il pedaggio e gente che sta in coda. E due volte già c'è stato il finanziamento e l'aumento dei pedaggi per fare la gronda. Poi sono stati spostati da altre parti perché la gronda era pronta, però siamo di nuovo in una situazione, e questo lo posso dire veramente a ragionveduta, perché proprio il ministro del Rio era andato dalla Verstagen a chiedere, nel 2016-2017, all'inizio, addirittura 15 anni di proroga della concessione, per fare la gronda. Io feci un'interpellanza proprio su quello dicendo che non si può continuare a usare la gronda come ricatto per avere una proroga della concessione. L'alternativa era l'aumento dei pedaggi. Esattamente, che però non è sostenibile da un punto di vista economico come Paese. Vorrei ricordare, non c'è solo l'utenza privata, abbiamo anche il sistema dell'autotrasporto. Oggi da noi il 92% delle merci viaggiano su gomma e anche quando completeremo il potenziamento della rete ferroviaria non scenderemo sotto l'80% o il 75% delle merci. Quindi ogni aumento del pedaggio si scarica poi su tutta la filiera produttiva e costringe il Paese, il Governo a mettere del cash per calmierare il pedaggio e questo vuol dire dei veri e propri regali dei concessionari perché non è che lo sterilizzi per sempre. Viene sterilizzato in quell'annualità mettendoci della partita corrente che di fatto sono soldi dei cittadini che pagano le tasse. Quindi o le pagano direttamente sul pedaggio o le pagano indirettamente. Per questa ragione io penso che sia comunque molto corretto avere un piano B. Cioè la gronda sappiamo che un'opera tra l'altro sia il ministro Salvini sia tu poi subito dopo avete detto ci sono delle problematiche legandolo poi a delle situazioni diciamo di carattere tecnologico però in effetti sapete benissimo che è un'opera molto difficile da realizzare. Noi non possiamo essere certi che la gronda verrà realizzata e né che venga realizzata in 15, 20 o più anni. Comunque io la cosa che vi dico è che oggi comunque il sistema infrastrutturale Ligua è uno dei più complessi d'Europa. Non a caso oggi dove c'è più investimento del PNRR anche sul sistema ferroviario della Liguria e anche investimenti di ANAS sul sistema dell'Oreglie Bisso e dalle altre parti abbiamo un investimento pro capite che è il più alto d'Italia in questo momento e benvenga. Però il problema della gronda non lo risolviamo e non può entrare nel PNRR. No no ma il problema non c'entra il PNRR però il problema che noi abbiamo è che comunque gli appennini li dobbiamo bucare. Geologicamente è la conformazione più difficile perché in Liguria e lo si vede nel terzo valico si inseriscono le Alpi dentro gli appennini e quindi ci sono delle professioni molto importanti e c'è un tema di progettazione che è particolarmente complesso. Quindi è difficile fare come posso dire delle linee rette e andare nei posti diciamo perché se rimani in superficie è un problema idrogeologico importante sui versanti delle nostre valli che sono versanti particolarmente scoscesi. Se vai in galleria comunque la necessità di seguire delle linee che ti vengono date sostanzialmente dai sondaggi che vai a fare i temi sull'investimento è veramente importante. Per quello che anche una revisione del progetto che sia sul tracciato cosa che oggi non è possibile dal punto di vista legislativo perché c'è stato un dibattito pubblico, c'è stata un'autorizzazione e quindi oggi il tracciato non è toccabile. Il problema che abbiamo è oggettivo che anche un nuovo progetto comunque richiederebbe dei tempi che si avvicinano, sicuramente supererebbero i 5 o 6 anni solo di progettazione. Comunque diciamo che se dobbiamo tenereci questo tracciato io non voglio entrare nella discussione tecnica. Dopodiché è vero che l'opera infrastrutturale è più complessa d'Europa dal punto di vista autostradale. Da quando partiranno i lavori perché il cantiere zero ad oggi è veramente un cantiere zero nel senso che è stato messo lì per far vedere che si inizia ma di fatto non sta servendo assolutamente a nulla. Il problema è che cosa facciamo fino a quando non avremo la gronda. Secondo me questo è il tema poi possiamo anche aggiornarlo. Sui temi della gronda il tema molto semplice è che qualsiasi opera infrastrutturale. Oggi che fai sull'autostrada italiana per dire anche uno dovesse fare la carta ripredosa meno di 10 o 12 anni di tempi di realizzazione non ci sono. Il problema che noi abbiamo perché purtroppo abbiamo un sistema quello ligure che è di galleria di viadotti e non possiamo fare altrimenti perché la nostra conformazione è questa. Non siamo in pianura padana. Quello che noi possiamo fare sono degli interventi molto più accurati sul tema dei lavori in autostrada. Possiamo rivampare la rete ANAS. In particolare stiamo procedendo a migliorare la circolazione nelle linee di penetrazione dal mare ai monti sia nel Savonese sia nell'imperiese dove a mio avviso un tema che deve tornare al dibattito pubblico, cioè tornare di dibattito e di novità che potremo partire e realizzare in pochi anni è l'adeguamento dell'armo cantarana e la realizzazione del traforo perché è un intervento che si può fare in 4 anni, 5 anni e potrebbe consentire alla provincia di Imperia di avere uno sbocco al di là dell'Appennino immediatamente. Sulla parte di Savona il potenziamento delle statali di penetrazione in particolare togliere i vari colleghi di bottiglia che ci siano sia sul sassello che da altre parti perché nel momento in cui noi facciamo il lavoro in autostrada... Chiedo scusa se... Però sulla rete autostradale il problema che abbiamo è che se vogliamo togliere e mettere l'autostrada senza cantieri il rischio vero è che noi ci troveremo tra 5 o 6 anni a dover interdire la circolazione a meno che non vogliamo prenderci dei rischi come si è preso qualcuno alla fine degli anni Ottanta quando non ha fatto fare la bretella a volte Rivarolo e ha mantenuto in piedi il ponte Morandi. Il problema è che noi abbiamo la necessità in questo momento di rivampare una rete che per 30 anni non è stata toccata. Però possiamo dire tranquillamente agli utenti e agli ascoltatori che saranno lacrime e sangue saranno per prossimi 10-15 anni. No 10 no, noi riteniamo che entro il 2032 finiranno tutte le situazioni a livello italiano se riusciremo a procedere con celerità e secondo un cronogramma che ci siamo dati. Probabilmente sulla Liguria molto prima però abbiamo la necessità di spostare parte del traffico merci su mare quindi potenziare il mare bonus anche nelle trasversalità cioè togliere i camion dall'autostrada è la priorità. Dobbiamo sistemare ad esempio gli impianti come quello di Savona che potrebbero consentire di portare un milione di tonnellate di rinfuse al di là degli appennini senza usare il sedimo autostradale. Dobbiamo potenziare il traffico su ferro per quanto possiamo cambiando le priorità anche degli interventi a rete ferroviaria italiana perché se noi riusciamo a togliere i camion dalle autostrade in automatico questo sicuramente è uno dei temi di cui tra l'altro probabilmente faremo un incontro proprio a settembre anche con rete ferroviaria italiana. Noi diremo che dal 2026 crediamo di migliorare sensibilmente il traffico anche autostradale. C'è da dire una cosa sappiamolo molto correttamente il viceministro ha detto si scenderà l'80%. Se però ci saranno gli aumenti di traffico marittimo che si pensa ci saranno su Genova la problematica resterà più o meno uguale. Dobbiamo togliere i cantieri e secondo me bisogna fermare i tir che entrano in Liguria prima che entrino perché se non c'è lo spazio la cosa fondamentale sono le aree buffer. Io continuo a dirlo da molto tempo vedete le code di tir è inutile tenere i tir in corso. Qua ci sono tre corsie dove si sta vedendo adesso. Infatti l'altro tema su cui noi stiamo e pensiamo in due anni di riuscirlo due o tre anni a completare è il fatto di utilizzare per la prima volta in Italia un sistema predittivo intelligente sui flussi di traffico collegando ogni mezzo sostanzialmente al satellitare già oggi in parte lo è ma utilizzando i dati al fine di evitare che ci siano come posso dire delle situazioni in cui si vanno a creare delle code perché oggi anche quando uno utilizza Google Map faccio un esempio oppure UAZ è chiaro che vede la coda nel momento in cui si è formata. Noi dobbiamo vedere le code prima per dirottare il traffico prima e evitare code di 20 km come abbiamo visto ultimamente. Se noi sappiamo che i tir non possono starcene più di X in autostrade inutili che li facciamo entrare per bloccare il traffico anche ai vicoli. Però bisogna dargli un'alternativa quindi ad esempio il traffico per la penisola iberica che sale su dalla Toscana probabilmente avrebbe senso di imbarcarlo a Spezia e farlo scendere a Marsiglia oppure farlo scendere a Valencia. Io sono molto contento che ci sia questo intendimento perché credo che sia una delle poche soluzioni che abbiamo ad oggi. Perché invece sui lavori fisici il problema è che i tempi di realizzazione al netto dei permessi al netto di come vengono fatti però noi abbiamo un problema che non possiamo diminuire le manutenzioni abbiamo ora stiamo vedendo con la comunità europea perché è cambiata anche lì la tecnologia anche delle gallerie quindi forse si potrebbero fare lavori meno invasivi ma più efficienti da un punto di vista anche antincendio come si è visto ad esempio l'ultima volta che noi abbiamo avuto un'emergenza fortunatamente finita senza vittime quella dell'incendio dell'autobus in una galleria mettere dei sistemi di autospegnimento nelle gallerie che sono un po' più facili sono nerosi ma sono un po' più facili da con le nuove tecnologie da installare invece che rifare lavori invasivi nella sede stradale e sovrastante che richiedono spesso mesi per una singola galleria cosa che vuol dire paralizzare il traffico in una regione come la nostra che non ha viabilità alternative rispetto alla galleria anche il sistema delle ore e gli abis che stiamo iniziando a fare e quindi le prime diciamo i primi miglioramenti si avranno sul Savonese dove oltretutto adesso collegheremo la riabis che prima non era stata progettata fino al casello di albisola per evitare l'uscita sul longomare di albisola e direttamente nel porto di Savona però comunque i tempi dell'intervento altra cosa indubbiamente importante ma proprio parlando di quello che è l'incendio che c'è stato in quella galleria io mi ricollego per cambiare un attimo argomento parlando del tema sopraelevata tunnel sopraelevata tunnel subportuale tra l'altro qui abbiamo un altro sondaggio sia per quanto riguarda la sopraelevata sempre fatti da Tecne che è una delle più grandi società italiane di sondaggi e a cui noi abbiamo affidato una serie di sondaggi non so se la regia ha i due sondaggi da farci vedere questa è la sopraelevata andrebbe abbattuto o meno 53% dice di no che vorrebbero che restasse la sopraelevata 29% sì solo il 18% non lo sa quindi è una posizione abbastanza chiara quella che esprime la cittadinanza genovese vediamo l'altro se c'è sul tunnel subportuale favorevole 51% contrario il 32% indifferente 7% e non lo sa il 10% questo per dire che cosa allora io sono sempre stato convinto che se il tunnel si potrà fare ben venga ma non lo trovo assolutamente sostitutivo di una direttiva oggi la sopraelevata di un'altra direttrice che collega l'est all'ovest della città in una città che ambisce di crescere che ambisce di ritornare magari 800 mila abitanti il rischio di avere un unico un'unica direttiva che collega l'est all'ovest secondo me è pericolosissimo infatti io ho scritto si rischia di spaccare in città la città in due per sempre quindi su questo volevo avere un suo parere perché c'è stato un dibattito in questo periodo dove per altri vari soggetti sembra che non avessero una identità di vedute la posizione nostra è prima si finisca il tunnel quando è finito il tunnel si controllino i flussi del traffico e si veda se è possibile abbatterlo da una parte renzo piano dice non è possibile perché per fare poi la parte che va in via madre di dio bisogna comunque abbattere la la sopraelevata di levante su questo volevo sapere che posizione ma guardi posizione noi ne abbiamo nel senso che questo è un tipico esempio di viabilità urbana quindi spenta al comune e in qualche parte alla regione è evidente che anch'io ritengo che da cittadino però genovese non posso parlare da viceministro perché entrerà in competenza e altri da cittadino di genovese ritengo che la cosa più saggia siccome ormai il tunnel è iniziato e durerà la lavorazione intorno ai sei anni è evidente che di questo argomento io ne parlerai tra sei anni credo che non entrerà in funzione il tunnel si userà la sopraelevata difficile pensare di abbattere la sopraelevata senza averci il tunnel funzionante quindi anche sui temi di intersezione credo che saranno gli ultimi elementi che si svilupperanno nel progetto perché altrimenti rimarremo per un certo periodo senza viabilità però il progetto prevede l'abbattimento quindi forse bisognerà fare una modifica al progetto beh quello si può fare anche alla fine e la cosa che è chiaro è che secondo me questo è un argomento di cui si occuperanno anche le prossime giunte visto che comunque la vita diciamo dell'opera rimarrà diciamo che il tunnel sarà per questioni cronologiche inaugurato dal nuovo sindaco attuale se va bene sì ma io credo credo che sia del mercato io ritengo che sulle cantierizzazioni ormai si è raggiunta l'unico problema che abbiamo in italia è quando si fanno gli appalti che c'è volte aziende che non riescono a reggere i tempi di un appalto e neanche la liquidità che presumo un appalto ma credo in questo caso come in altri questo non sia non sia un elemento lo moneteremo strada facendo e vediamo e vediamo che cosa che per tutti i cantieri oggi oggi siamo al cantiere zero anche in questo caso vengono fatti i primi sondaggi vediamo se ci verrà data una attenta informazione di quello che accade perché secondo me molto spesso c'è poca informazione cioè tutti i cantieri tutte le società che gestiscono queste grandi opere tendono a non comunicare questo secondo me è un grave problema perché lascia e apre enormi dubbi ma passiamo subito al tema del terzo valico terzo valico allora io ho dei dubbi che si possa riuscire a realizzare nei tempi che si è detto tanto più che poi ci vuole minimo un anno per quanto riguarda poi tutte le le verifiche controlli le autorizzazioni per far veramente passare i treni e quindi penso che ci vorrà ancora qualche anno in più di quello che forse si immaginava ma non direi che questo è il grande problema perché perdere un anno due anni in più ma comunque noi abbiamo un vincolo quello che il l'opera sostanzialmente deve essere finita e collaudata entro giugno 2026 e questo ci siamo impegnati anche ultimamente perché se non sarà così il governo italiano dovrà rinfondere 4 miliardi all'europa per cui i temi sull'accelerazione un tema costante domani farò una riunione sul terzo valico ne facciamo un'altra settembre ci sono dei problemi anche di carattere meccanico perché il tracciato purtroppo è stato sbagliato vent'anni fa e non è modificabile perché ormai gli scavi sono all 85 87 per cento mancano sostanzialmente in una canna dei pezzetti che tutti messi insieme sono inferiori sei chilometri sull'altra più o meno sui cinque chilometri il problema vero è che abbiamo avuto per tre chilometri praticamente siamo passati sulla faglia che c'è tra gli alpi e appennini le alpi si posano sopra gli appennini creano delle pressioni enormi e quindi abbiamo avuto quel problema con la talpa che ha dovuto essere sostituita la testa è stata ricostruita quindi solo i tempi di realizzazione del nuovo macchinario hanno impiegato alcuni mesi e devono cambiare i conci della galleria che sono stati già ordinati e saranno consegnati da qua nei prossimi giorni finiranno le consegne penso nel mese di agosto perché prima si procedeva mettendo un concio ogni 30 40 metri adesso si procede mettendo un concio ogni metro e mezzo quindi con ovviamente degli aumenti di costi ma è chiaro che noi abbiamo la necessità di portare le due canne l'altra canna non ha questi problemi ma sapete che per motivi di sicurezza per poter mettere in linea la galleria abbiamo bisogno delle entrambe le gallerie perché in caso di incidenti o altre cose le due gallerie sono collegate sono perfettamente d'accordo è la stessa cosa che dicevo su sopraelevate quindi noi abbiamo la necessità di avere dei bypass su questo però noi abbiamo abbiamo verificato anche sul fatto dell'amianto il progetto iniziale prevedeva il 5 per cento di terra amiantifere siamo arrivati al 25 per cento questo è aumentato i costi anche perché lo smaltimento è complesso in italia alla fine buona parte va a finire in germania dove è molto meno complesso lo smaltimento e e quindi c'è un problema sia di costi sia di procedure perché sapete quando si trova l'amianto giustamente a tutela di tutti bisogna adottare delle procedure che sono molto più conservative rispetto a quando trovi altro tipo di terre di scavo non sappiamo in questi chilometri cosa si troverà noi speriamo che però diciamo abbiamo analizzato la situazione peggiore e riteniamo che comunque lo scavo cerchiamo di farlo finire entro il 2025 si aggiorniamo magari a settembre ma questo è un tema fondamentale ma all'uscita del terzo valico lo sostengo da anni e mi fa molto piacere che finalmente qualche mese fa sia il presidente di ferrovie sia il presidente di asso lombarda hanno detto se si esce dal terzo valico e non c'è quadruplicamento è un'opera che serve a poco beh mi fa piacere finalmente che questo tema sia stato affrontato ma io ho grandi dubbi sul fatto dei tempi della realizzazione del quadruplicamento perché purtroppo non mi risulta che ad oggi non è nel PNRR ovviamente una parte nel PNRR è la progettazione no una parte nella PNRR è la realizzazione della prima parte da Rogoretto a Pavia è già stata consegnata ai lavori a maggio 2023 e finiranno a 2026 questo perché comunque è una seconda parte come io avevo sostenuto e ne avevamo parlato anche in campagna elettorale questa parte è stata concordata praticamente con Trenord ed è sostanzialmente una seconda linea però a disposizione anche dei pendolari sappiamo benissimo da Pavia a Milano c'è ormai un sovraccarico in realtà in realtà vengono shiftati i pendolari rimangono su una parte della linea gli altri due binari vengono dedicati a lunga percorrenza noi stiamo shiftando da tutte le parti i convogli quindi questo consentirà prestazioni non elevatissime perché purtroppo in quella tratta abbiamo dei problemi anche proprio sulle edificazioni però siamo riusciti a portarla a 200 km orari prima era prevista a 160 che ne avevamo parlato io avevo lanciato diciamo il grido di allarme che per essere corretto sono 180 km per i treni di classe C e 200 per i treni di classe P i treni di classe P sono i TR600 però sono prima a dire che a parte che non si può parlare di alta velocità tra Genova e Milano ricordiamocelo noi stiamo parlando comunque di una velocità che è assolutamente sufficiente per comprire i 124 km da Genova a Milano teniamo presente che se 124 km se li facessimo a 180 km all'ora vuol dire già essere a 45 minuti 40 minuti poi noi sulla linea tradizionale stiamo facendo interventi per portarla a 200 km orari facendo la velocizzazione in parallelo diciamo da Pavia a Tortona che sarà sostanzialmente realizzata entro il 2026 proprio perché se avremo entro il 2026 il terzo valico potremo poi dall'uscita del terzo valico andare a 200 km fino a Milano seppure nel primo tatto per quanto riguarda i quadruplicamenti noi siamo già in corso diciamo di progettazione tutto abbiamo 600 milioni di euro sull'adeguamento del piano economico finanziario però ci vorranno parecchi anni per portare avanti noi aspettiamo l'esito del dibattito pubblico tra Tortona e Voghera che è il posto diciamo così peggiore perché era quello che non si voleva fare l'adeguamento di velocità entro settembre 23 per poi procedere nel 24 l'assegnazione dell'appalto teniamo conto comunque che fino a quanto avremo un binario possiamo anche andare a 200 all'ora ma in determinati orari se ci sono i treni merci o pendolari davanti chiaramente non si può passare sopra questo lo dico perché sia chiaro invece da Voghera a Pavia a Voghera anche qua entro settembre 23 noi dovremo avere sdoganato e quindi poi poter nel 24 sostanzialmente andare in appalto quindi noi riteniamo che sul quadruplicamento nel 24 dovremo andare in appalto massimo inizio 25 su tutti i lotti che vorrà dire arrivare sostanzialmente un paio d'anni dopo il 2026 con i quadruplicamenti completi sarebbe straordinario se tutto va bene c'è anche la presentazione del ponte sul Po che chiaramente non è una cosa semplicissima ma fattibilissima ovviamente però che richiede determinati tempi beh queste sono notizie positive poi avremo modo di riparlarle e di verificare se quanto ci sta dicendo riesce con tutta la buona volontà del ministro perché il viceministro ci mette ovviamente la buona volontà di portarla avanti le problematiche ci sono speriamo di poterle confermare nei tempi abbiamo più poco tempo anche perché lei fra poco poi deve deve volare a Roma aeroporto di Genova c'è stata la notizia appunto del presidente poi c'è stata la notizia del direttore che doveva esserci un determinato nominativo non più poi c'è stato abbastanza silenzio e non sappiamo appunto che cosa adesso accada sull'aeroporto di Genova notizie positive comunque se c'è un presidente di grande spessore come Lavarello ma c'è una cosa in più c'è la scadenza al 2026 prorogata al 29 per tre anni per il Covid che è un problema molto concreto che dobbiamo affrontare io credo che su questo è uno dei temi che abbiamo affrontato anche col Consiglio che hanno affrontato in Consiglio di Amministrazione mi sono venuti a trovare perché il nuovo Consiglio di Amministrazione ha chiesto al presidente di occuparsi sul rinnovo della concessione o capire quali sono gli scenari per quanto riguarda la proroga della concessione abbiamo avuto un incontro con Enac che ha detto che sostanzialmente non è possibile portare la proroga della concessione e non passerebbe a livello europeo e questo crea alcuni problemi neanche per quel ritardo che ci fu di dieci anni quasi nella consegna no perché doveva essere impegnato all'inizio quando gli altri aeroporti l'hanno fatto quindi questa è un'altra roba diciamo così quindi si dovrà andare a bando si dovrà andare a bando si potrebbe anche anticipare il bando se lo chiedono i soci per avere una previsione di investimenti a 40-45 anni è chiaro che quello che manca sul nostro aeroporto è sicuramente un socio industriale nel senso che Aeroporti di Roma che è l'unico socio industriale oggi che c'è perché nel porto, nelle camera di commercio sostanzialmente si occupano di per sé di trasporto aereo ha anche interessi diversi quindi bisognerà capire se ADR ha intenzione a investire ma ADR sappiamo che è proprietario anche dell'aeroporto di Nizza sì, non mi fiderei molto è sempre famiglia diciamo è chiaro che bisogna vedere se c'è un interesse sul mercato e capire però questo è un tema dei soci non è un tema del Ministero il Ministero ha detto che qualsiasi cosa decidano i soci come progettualità noi ci occuperemo del collegamento fino a poco tempo fa si pensava eventualmente quasi c'era anche chi parlava in un futuro di una chiusura dell'aeroporto, di trasferirlo io non credo che sia possibile invece adesso si parla addirittura cioè come idee si inizia a ventilare anche la possibilità di una seconda pista io credo che mi ha sentito parlare dell'idea di una seconda pista per il Cristoforo Colombo sì, anche se già attualmente il Cristoforo Colombo potrebbe tranquillamente con la struttura che ha come pista arrivare a sviluppare traffico per più di 2 milioni di passeggeri oggi fa un milione e mezzo ultimamente un milione e due però è affascinante pensare a una seconda pista sì, la cosa che bisogna innanzitutto è avere una crescita della domanda su Cristoforo Colombo e avere un soci e avere una concessione almeno di 45 anni che riesca per pensare di fare una seconda pista poi il collegamento con le ferrovie per cui ho chiesto anche al Comune di Genova di presentarmi il progetto magari di scorporarlo da Erzelli perché su Erzelli mi sembra che andiamo un po' più per le lunghe ma del collegamento tra la nuova stazione che sarà pronta nel 25 e l'aeroporto perché è evidente che l'aeroporto di Genova non deve più essere un aeroporto solo della città di Genova ma deve essere un aeroporto regionale quindi deve essere accessibile col treno anche da Savona o da Chiavari e da Basso Piemonte anche assolutamente a noi serve investire in questo momento sull'aeroporto perché? perché come dicevamo prima i problemi infrastrutturali hanno tempi lunghi di realizzazione la messa in un aeroporto in funzione di riuscire ad avere dei collegamenti a livello nazionale e internazionale importanti anche qua ci consente di non essere isolati quindi bando per una concessione più lunga idea di una seconda pista che sarebbe interessante chiaramente in un progetto che veda Genova come un aeroporto protagonista del mondo delle crociere sicuramente ma anche di tutto un territorio più ampio che potrebbe utilizzare l'aeroporto di Genova sulla base di questo sai che uno dei miei pallini su cui mi sono sempre battuto è la continuità territoriale mai come oggi la Liguria è isolata quindi sì il tema della continuità territoriale è un tema secondo me più economico che cioè se noi non dovessimo secondo me trovare un socio forte che ci investe il tema della continuità territoriale è un tema da cavalcare però voglio dire che un tema di crea un risparmio per tutti i Liguri che devono comunque viaggiare il problema che ha è che non aumenta il numero dei voli cioè oggi il problema che noi abbiamo è di una diminuzione costante e di cancellazione dei voli di Genova ogni tanto così random delle compagnie adesso mi sembra che Ryanair abbia detto che vorrebbe togliere altri voli l'anno prossimo sull'aeroporto di Genova e questo è un problema perché perché è evidente che se noi non riusciamo a legare al traffico trocroceristico al traffico del porto al traffico business una parte dei voli noi in alcune destinazioni soprattutto sui grandi hub non riusciremo a prendere i voli da Genova e questo limiterebbe comunque il tema poi sul diciamo così sul prezzo del biglietto siamo assolutamente d'accordo anche se devo dire che in confronto al passato oggi i prezzi sono veramente calati è verissimo ci dobbiamo fermare avremo avuto altri temi ma ne parleremo a settembre ringrazio moltissimo il vice ministro grazie a voi di averci dato tanto tutte queste informazioni a settembre faremo una cosa più lunga un terrazzo incontro buona estate al vice ministro e buona estate a tutti voi buona estate